TRUPA TALESCO, ESTA SIGRE DAX! Non si capisce nulla, parla meglio, amico. Uaah, americani! Ti prego, no! Perché parli in quel modo? Cioè, io non parlo così. Johnny, non mi dire che per il mio compleanno hai dovuto organizzare l'attacco di Chuck E. Cheese alla base... Sì, sembra tutto regolare. Sono Golden Freddy, ti voglio bene! Mi piacerebbe anche ma... ... Fratello, ti voglio bevare! Fratello, non farlo! Ar, ar! No, 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 no.